Ciao a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi, benvenuti su Tornmaster Channel, adesso siamo ritornati a fare un altro troll su Flygear, però questa volta abbiamo deciso di fare la torre di controllo. Allora, questa qui è la nostra super torre di controllo, come vedete c'è tutto il radar, eccetera. Allora, iniziamo col presentarci. Erlo, ATC for KSFO is now online. In modo da far vedere che comunque ci siamo anche noi. Allora, qua c'è la lista delle piste che suggeriremo per la partenza, il decoll, eccetera. Allora, vediamo un po'. Allora, quali sono le piste peggiori? Allora, c'è la DCL e c'è un po' di gente. Allora, vediamo un attimino, allora questa... Questa sembra che ci sia, vedi, ce ne sono almeno due. Vedo, allora, allora, vediamo un attimino. Per il vento direi di fare questa qui per l'atterraggio e questa qui per la partenza. Allora, così si atterra e si va bene. Allora, intanto qua abbiamo impostato la roba. Allora, ci attiamo un pochino. No, allora, prima di tutto scriviamo giusto per vedere l'ATIS, che sarebbe... Insomma, come si sente... Insomma, vabbè. Bene così. Allora, com'è che si sta bene all'aeroporto? Allora, iniziamo col cambiare qualche dato, tipo immettiamo qualche zero. Ok, 2670. Qua togliamo ne uno. Ok, direi che è abbastanza credibile per uno che non ci capisce un cacchio. Ok, così va bene. E inviamo, naturalmente. Ok, 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 ok. Yes. Ci hanno chiesto se siamo in FG.com. Vedete qua, ci è arrivata la richiesta da KSF e Ottawa. Che è questa qua. Vedete, qua c'è la... Cioè, praticamente, siamo dottori di controllo. Let's split our work. Cosa vuol dire, Wolf? S-Filt è cadere. S-Split. Quindi, ora andiamo. Aspetta. Eh, Google. Translate.google.it Allora, fai, scrivi. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Si copia e si incolla qua. Perché se no ci mettiamo una vita. Allora, let's... Scrivo io che sono veloce. Split our work. Cerchiamo di dividere il nostro coro. Ok. Allora, io suggerirai una cosa. Praticamente... No, 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 quello lì. No, allora, se lui dà un ordine, noi diamo l'ordine contratto. Eh, sì. Allora, vediamo, allora. Aspettiamo un secondino che magari ci sia qualcuno che... Come vedete, possiamo anche sì aumentare lo zoom e diminuirlo e aumentarlo di nuovo. Cacchio, se è grande questo post. Allora, aumentiamo lo zoom, sennò crasha tutto. Ah, no, qua dice... Air Italy holding short runway 10R. Ottimo, vediamo un attimino dov'è questo Air Italy, vediamo. La mission davvero lo è già lì. È questo qua. È questo qua. Ecco, io direi di dirgli... 19R. Eh, sì. Eh. Aspetta, scrivi. I think you are on 10L. Allora. I think you are... Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. No. I think you are in 19R. Mi sa che i messaggi, però, li vedono tutti quanti. 19L. Troll, cambia... Adesso cambierai il username. Vediamo un po' cosa ci dicono se... Excuse me. Is there a communist in this time? No. I'm a communist troll. Too late. Time flying. Sorry. Ci è cascato pure. Allora, aspetta. Stiamo già trollando tutti quanti. No, aspetta. Allora, aspetta. Turn. No, ho sbagliato. Ma dobbiamo trovare un modo... Cos'è che possiamo... Can you hear me on FG.com? Aspetta, facciamo un test dell'FG.com, perché mi sa che non sentiamo gli altri. Prova, prova. Sì, sì, sento. Sì. Più o meno. Togli il braccio, Wolf. Sono lento a scrivere, perché... Please call back if you have... Ok. Vediamo un po'. Allora... Ehm... Facciamo un qualcosa di trolleggiante. Tipo, scriviamo... Allora... A questo punto dobbiamo... 122,95 ci hanno risposto. Sì, l'unicom. Ok, così va molto meglio. Con 0 e con 1, ok. Mettiamo l'Aus, che è sempre il più usato di solito. Ok. Negative, va in crash and on... Grand, 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 Grand. Danny, dov'è che è? Danny, aspetta che te lo seleziono, eh. Danny, qua. Qua, dov'è? Si è disconnesso. No, è qua. Allora, qual'è che gli possiamo dire? Ma no, non sei... Non ti sei schiantato. Aspetta, aspetta, aspetta. Diciamogli che può... No, non posso. È andato in... È andato in attività. È offline. Ok, adesso vediamo che trova qualcosa altro da fare. Facciamo qualcosa tipo... Allora, ci precisiamo subito a dire che... 3, 2, 6... Summiting. Allora, aspetta. Facciamo vedere che sappiamo dire... Siamo in chat. Can you... Can you... Can you... Can you hear me? Can you hear me? In inglese perfetto, proprio. Io non sento un cazzo. Ma anch'io. Ma non è che... Ma hai anche l'ho fatto male. No, allora, aspetta. No, questo cos'è disconnesso. Sì, Dani è disconnesso. No, Alex è. Quel canto San Francisco in... MMMMM. Allora. Vediamo un po'. MMMMM. No, allora, ci precisi... Voglio dire assolutamente che noi... Avete sentito anche voi? Io niente. Ho sentito, ho sentito la voce di qualcuno. 120... Ho sentito qualcuno, però non so chi è che era. Allora, a questo punto ci tengo a precisare che... Basta fare la torre di controllo simpatica. Non ce ne frega un cacchio. Quindi, adesso facciamo veramente figli di troglia. Ehm... Diciamo che tu puoi... Puoi accendere i motori. Adesso diciamo questo qua che... Allora, diciamo la torre di controllo che può... Che può volare. KSFO, dov'è? Cacchio, me che... Fa niente. Allora, cos'è che possiamo dire? Che deve girare a destra? È fuori come o no? No, no, no. Take off. Sì, dai. 19 R. 19 R. LOL, LOL, LOL. Allora. Qualcos'altro. Allora, ad Alex scriverei di... Right... To the right heading... 900... 9.000... Grati. Allora, allora. Ci stiamo strocheggiando, eh. Pronto. Allora. Esci da la... To the right. Allora, stiamo dicendo alla gente di uscire dalla pista. Di saltare. Stiamo facendo un disastro che se mi vedono quelli per cui sto traducendo il manuale mi ammazzano come minimo. Allora, Rick. Dobbiamo trovare qualcuno che è già in volo. Aspetta, Rick dovrebbe essere quasi, no? Non ancora... Lui è in volo. È sulla 84, quindi è in volo sicuramente. La 84, per chi non lo sapesse, è il... È il piano di volo. E quindi io direi... Di spegnere i motori. No, no. Cli... Descendente. Descendente. Reduce speed. Reduce speed to zero. Zero. So, io. No, zero... Knots. Knots. Che è... Nody. Sì. Questo video qua è... È... È terrificante. Allora, adesso... Qualcuno qua... Qualcuno qua... Qualcuno che è già in volo. Diciamogli, tipo... No, questo qua è in crash. Dov'è che è? È inattivo, no? Cos'è? È atterra... Ah, ma è sulla pista, ecco. Sì. Vediamo un po'. Questo qua, che mi pare che sia già in volo. Diciamo... È autorizzato a... È autorizzato... È autorizzato... È autorizzato... Ad accendere i motori. È autorizzato ad accendere i motori. Questo è bellissimo. Cioè... Poi, qua che altro è questa roba qua? Che non ho mai visto i segni blu. Cos'è? Someone can use Gcom. FGcom. È giusto per renderci disponibili verso AirItal. Ita, ita. Questo qua. Allora, trasmettiamogli intanto il nostro coso per contattarci. Quindi trasmettiamo un Atis diretto, così va meglio. Così c'è anche... Però, calma... C'è anche il nostro FGcom. Un pochettino cambiato. No, l'ho messo giusto. Allora... C'è un'altra... Eh, vabbè. Così magari citarla tramite... Tramite FGcom. Anche se io per ora non sento un cacchio. Cioè, non si sente niente. Non so se... È un problema. Non so se è colpa nostra loro. Allora, le piste sono sempre ventose come assalto. Uh, qua c'è qualcuno che sta... Ne collando senza permesso. Ehm... Ehm... Are... You... No, you are... Are... Ehm... Take... Taking... Off... Without... 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 Clearing... Sei... Ma è sparito? No, c'è, c'è. No, guarda. Volato fuori da visuale. No, si è... Si è spawnato da qualche altra parte. Comunque ha sempre volato senza autorizzazione, eh. No, allora... Non vogliamo... Non vogliamo... Non vogliamo... Non vogliamo... No, no. Non vogliamo clandestini a bordo. Allora... A questo punto direi... Ehm... Di dire... Qualcosina in FGcom. Allora... Ehm... Cosa diciamo? Cosa diciamo? Di te ho visto... Si, quello di è vecchio. Abbiamo già fatta. Facciamo... Excuse me... Can I troll you? Posso trollarvi? Diciamolo anche... Excuse me... Can I troll you? Vediamo se è trasmesso. Si, sto trasmettendo. Non capisco perché... Allora non ci risponde nessuno. Vabbè. Allora... Non aveva pensato che qualcuno fosse avesse risposto... Vabbè se ho sentito... Prima aveva risposto qualcuno... No, quello di prima era... Un rumore di un motore... Ogni tanto si sente. Quando sono vicini a me si sente... No, aspetta... Quelli giovani... Un rumore di un rumore di un rumore... Are you a terrorist? Are you a communist? Magari è veramente un comunista E poi ci bandano perché vale male dei comunisti Questo gioco l'hanno fatto i comunisti oppure no? No, l'hanno fatto degli inglesi Quindi capitalisti Allora a questo punto vediamo che Ma qua dove la dipende la playstation? Era ancora accesa? Sì Ancora Qua c'è il vento Benissimo vuol dire... no E' tornata la pista e è tornata senza vento Quindi ne scegliamo un'altra Perché non va bene se no Scegliamo questa Che è bella ventosa Ok Intanto qua abbiamo dei messaggi scandalosi Vediamo un po' chi altro Toh non c'è più nessun ATC qui Probabilmente si sono rotti le palle di noi Allora Poco l'ATC sarebbe stato più divertente Ma come mai con uno giallo? Ehm... non so I colori non me li ricordo tutti Allora facciamo un messaggio a tutto il traffico Com'è? Non mi ricordo più c'era... da qualche parte c'era per fare un messaggio a tutto il traffico Boh non mi ricordo Come cacchio è che si faceva? At all traffic Ah ecco... To all... Airmen... Ehm... 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 Please inform... Com'è che si fa? Intent... 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 Yes si... Fuck... Cioè... Fuck fuck... Shit... Beach... Poo... Cioè veramente a questo punto io non so più cosa dire Non so... Magari non ci sentono Sono ciechi? Si... Sono ciechi I'm taking off... Dov'è? MMMMM Allora... MMMMM Runway 10L British Are you... Aren't you cleared? No no... For Runway... 22L Che fa' che non esiste neanche? No che non esiste Vedi forse un 22L da qualche parte Uno... C'è qualcuno che è il contrario C'è qualcuno qui che è contrario Ma... Ma che cavolo? È un ATC ma non è un ATC Non so... Allora... Adesso vediamo un pochino Si... You are stupid Ci sono i suoni! Ehm... Quanta roba che c'è qua! Cos'è sta roba? MyFGcom non funziona MyFGcom non funziona Normale MyFGcom is... 122.950 Test Proprio per dire... Quello è standard Non è standard Si è quello standard Si è quello standard Di solito Boh non so... Giusto per vedere che magari ci dice qualcosa Tanto ci caga nessuno Allora... Dobbiamo trollare qualcuno Quindi a questo punto diciamo che... Questo qua... Ehm... Creare tutti i co... So Runway 28L No... L L Si ma basta un 28L Di me ti metto un po' di L Se no... Eh ma tanto... Ma esiste! C'è tanto che esiste la 28L Poi non esiste la 22 Va bene tagli Ma chi è che ha fatto la numerazione di questo aeroporto? Allet Stop Proprio per trollare di brutto Questa qua è genia Allora Wolf che digita Io che premo invio E tra tutti e due si è accoggiati malissimo Allora... Ehm... Sembra che non ci canchi Intansiamo un po' la ciava Come? stop 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 Questa era eccezionale Allora da quant'è che stiamo registrando No ancora un pochettino Strando 18 Sì Ma perché? Beh hai premuto tu Allora no Nooo Allora Stiamo impazzendo No poi è arrivato 28 è alla più o meno Vabbè si è arrivato allora Perché non mi fa selezionare Ah no ecco Si è buggato No non è che si è buggato Sta laggando Come al solito Con la mia connessione Ok ground Però io voglio sector che va meglio E' più bello Ecco sì Basta No aspetta E' monotono lo può un po' GTA Was wrong FC3 Dai Jk Basta Aspetta Ultimi due Vediamo un po' Cosa è che dico Adesso Frequency 7 But I cannot turn around Where I am going Aspetta Hey Rital Can you hear me? Aspetta chiedo se è italiano Hey Rital Perché Mi viene sto dubbio Are you Italian? Let's go MMM No A TG Hai qualche Hai qualche Bontone rotto Aspetta No non a lui Non a lui Non a lui Anni Rital What? No no what? Are You Italian Because I'm Indian Because I'm I'm Communist Yeah M No Allora Ma come mai non si chiama USNavi? Ma si tanto si cucciati male tutti quanti No c'è che quello che si chiama USNavi? USA Navi Si Stessa cosa Dov'è? Non c'è C'è qua C'è qua Magari si è disconnesso No eccolo qua C'è poi da scrivuto che si chiama USNavi Geniale Allora Dopo questa Insomma Stiamo registrando da più di 20 minuti Si quindi devi chiudere qua Aspetta Prima annunciamo a tutto il traffico Che At all Traffic Traffic You are Trolled 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 And I'm Com'è che ci dice che sto filmando? And Capito And 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 are And you are And you are Captured Captured Capture And You are capturing Perché are Capturing Giusto You are capturing And this video Finirà su youtube Com'è che si Fini Go to youtube Go Is Going On Youtube Occupiamo un paio di volte Così tutti quanti capiscono che sono stati trullati Che ci vuole proprio Poi Facciamo il saluto Ci sta trullando Adesso ci sta trullando a torre di controllo Come al solito Non ha danno Forse non è chiaro Ok Così è deselect Geniale Forse non ha capito bene Che Ok Così si capisce proprio bene Che stiamo trullando di bestia Ma mi sa che In qualche modo hanno Hanno una specie di antispam Che non ti fa copiare lo stesso messaggio Perché non si copia più Ok Goodbye E con questo Goodbye anche a voi ragazzi Chiudiamo questo video Quindi lasciate un like Scrivete un commento Iscrivetevi Il tempo ha fatto schifo Ci siamo trullati meno da soli Rispetto alle altre volte E bella anche da Jacopo Mi E qui Scrivete un commento